Il principale imputato Cosimo Nobile è bloccato nel carcere di Viterbo, dove era inchiuso per un problema di salute tale da impedirgli di raggiungere l'aula della Corte d'Assisi a Chieti, dove questa mattina era in programma un'udienza per l'omicidio dell'architetto pescarese Walter Albi e il ferimento grave di Luca Cavallito, nella Guato sulla strada Parco a Pescara del 1 agosto del 2022. Nobile non ha voluto rinunciare a partecipare all'udienza e nel suo diritto, ma gli sarebbe stato impossibile, nelle sue condizioni, affrontare il viaggio da Viterbo. Il presidente della Corte, Guido Campri, ne ha preso atto ed è stato costretto a rinviare la seduta al prossimo 26 novembre. È stata giustificata l'assenza dell'imputato Cosimo Nobile con un certificato medico, c'era stata l'antecipazione alla sua non partecipazione da parte della difesa, ma poi proprio per evitare di bloccare l'udienza con i testimoni che erano presenti, ma hanno telefonato dalla matricola e l'imputato è un suo diritto, ha confermato di non voler rinunciare e quindi il sistema nostro di difesa e di processo consente appunto di rinviare per legittimo impedimento. Una battuta d'arresto che ovviamente non cambia molto se non quello di allungare un po' tempo. Allora ci sono già delle udienze calendarizzate che sono molto ravvicinate per novembre, quindi non credo che cambi molto, ma non penso che sia stato quello il fine. Erano dieci test che questa mattina avrebbero dovuto deporre, tra questi la sorella di Cavallito, Sara, la sua compagna Erika Gualandris, la compagna di Albi, Gleide Santos de Araucos, alcuni amici delle vittime e anche Antonio Varra, il broker di Lamezia Terme con il quale Albi aveva siglato un contratto di investimento che gli avrebbe dovuto assicurare un'importante liquidità. In ogni caso Varra non era comunque presente in aula questa mattina, ma dovrà esserlo insieme a tutti gli altri il prossimo 26 novembre, quando il processo dovrà avviarsi verso la sua conclusione.